Viene presentato il rapporto statistico oggi della Regione del Veneto 2022, giunto alla sua diciannovesima edizione, uno strumento di analisi quantitativa, oggettiva, alla base poi di futuri ragionamenti. È un documento che mettiamo a disposizione dei territori e delle comunità. Ringrazio i relatori per il loro contributo che daranno alla fine della presentazione. Dare subito la parola alla rettrice di Cafoscari, professoressa Tiziana Lippiello. Cafoscari ci ospita qui in questa prestigiosa sala. Grazie professoressa, lei la parola. Di questo rapporto a Cafoscari, in una delle aule dei luoghi più belli rappresentativi di Cafoscari, il luogo dove molti di noi ci sono laureati. Il rapporto statistico della Regione Veneto è molto denso e anche pieno di contenuti che incontrano anche quelle che sono le linee programmatiche delle università. Ecco, io oltre a darvi il benvenuto, l'auspicio per me è anche come Univeneto, Università del Veneto, è che i progetti legati ai finanziamenti del PNRR che toccano il tema della transizione ecologica e la transizione digitale si possono sempre di più incontrare con quelle che sono quelle che sono le linee programmatiche della nostra regione. Ne menziono solo uno dei vari progetti PNRR che vedono coinvolte le quattro università del Veneto e INEST, l'ecosistema dell'innovazione, che ha dei programmi verso la transizione ecologica e digitale. In particolare sul digitale, come affermato nel rapporto, c'è molta necessità di progredire, di progredire nell'alfabetizzazione verso il digitale, soprattutto nelle scuole e noi siamo a disposizione per aiutare i ragazzi. La nuova missione dell'università è avere un impatto sulla società, quindi aiutare la regione, ma anche il sistema Italia a crescere, a crescere assieme all'università. Grazie, buon lavoro a tutti e buona giornata. Grazie professoressa, inviterei il presidente del consiglio regionale, dottor Roberto Ciambetti, per un suo gentile saluto, usandosi quel microfono per questioni di telecamera. Grazie. Grazie, anche la telecamera. Porto il mio saluto a quello dell'intero consiglio regionale a questo momento che ritengo sempre importante. Presentare un rapporto statistico è, secondo me, una di quelle cose che specialmente noi legislatori dobbiamo avere come momento di attenzione, perché appunto è conoscendo e capendo che possiamo poi deliberare e legiferare. E quello che viene fatto dalla unità della nostra regione appunto sono sempre dati puntuali, precisi, che vanno comunque spiegati e approfonditi. Ed è una cosa che, almeno da parte mia, mi dà sempre spunti e riflessioni che sono assolutamente utili per il lavoro che facciamo. Ringrazio la vicepresidente per l'attenzione che porta appunto a questo momento e a questo lavoro e ripeto, come sempre, sono cose che ci sono utili. Anzi, lancerei già per i prossimi mesi magari anche un approfondimento su certi temi nella prima commissione che è assolutamente il luogo dove poi appunto tutti i colleghi possono capire meglio e approfondire i numeri che arrivano dalla nostra regione. Quindi veramente grazie e buon lavoro a tutti. La parola alla vicepresidente per i saluti, introduzione ai lavori. Grazie. Buongiorno a tutti. Vi porto i saluti del presidente Zaia che mi ha delegato oggi a portare i saluti istituzionali. Mi sarebbe piaciuto poter dire stare qui con voi per presentare, però purtroppo stavo dicendo alla rettrice che hanno spostato la giunta dalle 10 alle 11, quindi pensavo di fare un passaggio in giunta veloce e venire qui e rimanere qui con voi, invece devo invertire, fare un passaggio veloce qui e tornare in giunta. Me ne scuso veramente anche perché ha detto bene il presidente Ciambetti, uno strumento di questo tipo per noi è fondamentale. Grazie alla rettrice per l'ospitalità, anche perché presentare il rapporto statistico, la diciannovesima edizione del rapporto statistico qui a Foscari va a confermare e a confermare quel consolidato rapporto di collaborazione che tra la Regione Veneto e l'Università si porta avanti da diversi anni e gli Atenei, il mondo dell'Università per noi è un confronto e un sostegno veramente importante. Ringrazio le strutture della Regione Veneto che hanno lavorato su questo rapporto, le strutture della statistica che lavorano veramente con impegno e con passione su uno strumento strategico e fondamentale. Saluto gli esperti che dopo si confronteranno in una discussione sicuramente interessante dalle professoresse Zolin e Di Maria e il professor Di Noto. L'ultimo rapporto della statistica parlava di, era incentrato sulle prospettive, quest'anno, questo del 2022 parla di transizione. Sapete che ci sono delle parole che entrano sempre nel nostro vocabolario quotidiano, in questi anni abbiamo parlato spesso di resilienza con il PNRR, oltre alla resilienza anche la transizione, prima diceva bene la retrice, transizione digitale, transizione ecologica, ma tutto questo, poi io sono assessore ai trasporti e credo che mai come in questi anni ci sia stata anche una rivoluzione, una necessità di analizzare una transizione anche nel mondo dei trasporti, perché vi è, io faccio sempre l'esempio, nel 2020 il piano regionale dei trasporti è stato approvato dal Consiglio regionale con una nuova visione, ossia la visione del piano processo, una visione che fotografa la situazione attuale, fissa dei fabbisogni e poi come raggiungere quei fabbisogni è un divenire, perché quando parli di ambiti che sono in trasformazione costante, vi è la necessità di analizzare anno per anno queste trasformazioni dove ti portano e quale direzione prendono. E la pianificazione solitamente è una pianificazione statica, quindi siamo passati da una pianificazione statica ad un piano processo assolutamente dinamico. Una intuizione diciamo che abbiamo avuto nel 2019 e non avevamo ovviamente la sfera di cristallo per capire che nel 2020 sarebbe arrivata una pandemia che ci ha permesso nel 2020, a pandemia in corso, di approvare lo stesso il piano regionale dei trasporti, perché era un documento che con la sua dinamicità e come era stato costruito ha permesso di poter essere attuale anche in piena pandemia. E credo che il rapporto statistico anche di quest'anno metta in evidenza questa caratteristica e dobbiamo guardare al passato con un'attenzione particolare che tutto ciò che viene visto come un obiettivo, come un fabbisogno o come una prospettiva per il futuro non deve essere vista in modo statico, in modo rigido, ma vi deve essere veramente quella elasticità che ci aiuta ad adeguarci nel momento in cui la situazione attuale dovesse cambiare repentinamente. Questo ovviamente ci fa un po' preoccupare, fa anche un po' paura, perché le certezze con la pandemia, tante certezze che noi avevamo, sono venute meno. Però quale miglior strumento dei dati? Quando io parlo io ho a che fare con ingegneri. Io sono un avvocato, ma ovviamente avendo le infrastrutture, i trasporti, i lavori pubblici, il mio staff è tutto di ingegneri e credo che il miglior modo per poter prendere delle decisioni oculate che riescano ad avere anche una visione corretta del futuro sia quella di partire dall'esistente e partire dai dati. Poi i dati e l'analisi della situazione esistente permette a chi deve prendere delle decisioni di poterle prendere con cognizione di causa. Quindi io veramente considero questi strumenti fondamentali e strategici per la nostra azione quotidiana. Io vi ringrazio e vi auguro veramente un buon lavoro. Il dottor Peloso, che lo ringrazio, mi ha prima detto che siamo in diretta sui canali YouTube, quindi ci sarà anche la possibilità di rivedere quanto verrà detto. e concludo ringraziando ancora veramente per l'ospitalità, la rettrice e auguro a tutti voi un buon lavoro e un buon convegno. Grazie. Bene, grazie dei saluti e dei messaggi che ha lanciato la vicepresidente. In effetti siamo in un momento, lei parlava di piano dei trasporti dinamico, in effetti siamo in un momento comunque in transizione. Veniamo fuori, o meglio, c'è un assestamento per quanto riguarda il tema della pandemia, ma evidentemente l'invasione della Russia e il conseguente conflitto ucraino-russo ha rimesso in gioco, come dire, rimesso in discussione i fondamentali dell'economia. Il mio intervento è diviso in due parti. La prima, come dire, è un'illustrazione che avrebbe dovuto fare il dottor Gasparin, il segretario generale della programmazione, che si scusa, ma per i motivi, voglio dire, indicati dalla vicepresidente, è impegnato al Palazzo Balbi. Si scusa molto, porta i suoi saluti di buon lavoro, conscio e assolutamente convinto che questi strumenti, come sono stati detti, come già stato detto, di informazione, e quindi possibilità di quantificare fenomeni complessi sono fondamentali per individuare strategie pubbliche, ma anche strategie private. Grazie, salutiamo l'assessore De Berti e anche la rettrice. Grazie. In questa prima parte, quindi, illustrerò alcune slide. Cerchiamo di dare un grande spazio ai relatori, proprio anche per avere un confronto di carattere contenutistico a questi dati. Partiamo quindi con la prima slide, che come vedete... Adesso la stiamo collegando un attimo. Volete avvicinarvi? Sì. La prima slide, mentre la mettiamo in visualizzazione, riguarda la congiuntura. Ci sono due blocchi di elementi, gli elementi favorevoli e gli ostacoli. Dicevo che fra gli elementi favorevoli il progressivo esaurirsi delle misure restrittive, l'aumento dei consumi che c'è stato post lockdown, quindi con un effetto di rimbalzo, la spinta degli investimenti, determinati anche in buona parte da interventi, da programmazione di carattere europeo, prima è stato citato il piano nazionale di ripresa e resilienza, e la vivacità del commercio mondiale, anche questo derivante dall'allentamento delle misure pandemiche. Fra gli ostacoli, il conflitto russo-ucraina, l'ascesa dell'inflazione, l'inflazione è una tassa occulta, una tassa regressiva, una tassa valutata ingiusta, perché colpisce soprattutto i ceti più deboli, essendo applicata a tutti indiscriminatamente, e poi l'incertezza sulla fornitura delle commodities per quanto riguarda l'energia e sulla fornitura e anche sul prezzo, che è molto volatile. Cosa che evidentemente non favorisce quello che è uno scenario di stabilità e di tranquillità, che è una delle precondizioni per l'effettuazione di investimenti da parte del settore privato. A livello complessivo, il Fondo Monetario Internazionale prevede una decelerazione della crescita prevista al 3,2% per il 2022 a un 2,7% per il 2023, mentre per quanto riguarda l'inflazione, vedete, dovrebbe esserci per il 2023, meglio si prevede, un leggero rallentamento. A livello più dettagliato, vedete che l'area euro prevede per il 2022 una crescita del 3,2% e invece un rallentamento significativo, ma comunque un rallentamento che dà alla fine un segno positivo dello 0,3% per quanto riguarda il 2023. Vedete qui, c'è l'indicazione dei principali paesi con cui l'Italia si confronta, significativa è la Germania, che passa da una previsione del 1,6% nel 2022 a un segno negativo previsto per il 2023. Per quanto riguarda invece l'Italia, è prevista una crescita a fine 2022 del 3,8% e una stabilizzazione dello 0,3% nel 2023. Il Veneto, secondo i dati di Prometeia, sono gli ultimissimi arrivati, quindi arrivati qualche giorno fa, si prevede una crescita per il 2022 del 4,2%, la precedente previsione di Prometeia era al 3,8%, qualche giornale ha ripreso questa informazione ma che viene subito, è stata modificata e non è quella più aggiornata e per il 2023 una stabilizzazione al pari dell'Italia. Vedete, se si può fare un commento, il Veneto tendenzialmente oscilla in positivo, soprattutto e talvolta anche in negativo in fase pandemica, un po' più rispetto all'Italia, essendo un'economia molto aperta e quindi soggetta ai flussi di esportazione. Dicevo dell'inflazione, dicevo dell'inflazione che sta purtroppo mordendo i redditi, sta riducendo la capacità di spesa delle famiglie e rende incerto lo scenario per il futuro. Vedete come c'è stato un incremento dell'inflazione, per il 2021 l'incremento era ancora all'1,9% come l'Italia ma nel 2022 l'inflazione acquisita, cioè quella fino ad oggi, segna già un più 8%. In particolare è il tema, il settore dell'abitazione, delle acque, dell'elettricità, gas e altri combustibili che ovviamente la fa da padrone per gli hobby emotivi. Ecco questo è un diagramma che bene fotografa dove si sta addensando l'incremento dei prezzi. Se andiamo a vedere poi l'andamento dei settori, dei settori produttivi, viene tripartito in industria, costruzioni e servizi. Possiamo vedere come nel 2022 e nel 2023 sostanzialmente abbiamo una caduta o comunque un forte rallentamento proprio per le cose che dicevo prima. L'industria segnala sia per il Veneto che per l'Italia, il Veneto al 2023 in azzurro, l'Italia al 2023 in verde, un meno virgola 0,8 per il Veneto e un meno virgola 0,9 per l'Italia. In parte compensato dal settore delle costruzioni che comunque performa in maniera positiva probabilmente anche dovuta agli effetti di incentivo nel settore edile. I servizi tendenzialmente sono comunque positivi e vedono il Veneto performare in linea con l'Italia. Quali sono le strategie messe in atto dopo il lockdown? Quello che sto presentando è solamente ovviamente una parte delle informazioni contenute nel rapporto statistico che vi invitiamo a leggere nella sua complessità. Possiamo dire che tendenzialmente in crescita sono i servizi alle imprese e le costruzioni, quindi servizi e settore edile. In calo, legno arredamento meno 2,1 per cento, la moda meno 2,3 per cento. Sono due settori particolarmente sensibili evidentemente anche agli andamenti e alla disponibilità che hanno le famiglie all'acquisto e che determina anche, come dire, ed è in linea anche con quanto detto prima rispetto al settore dell'industria che appunto segnava un segno negativo. Per quanto riguarda le strategie che le imprese hanno adottato, stanno adottando, spicca il miglioramento della qualità del personale, quindi un intervento sulle competenze, sulle competenze, nuovi beni o servizi o processi produttivi e una forma di riorganizzazione e anche non solo dei processi ma anche degli spazi di lavoro. Ecco, l'ultimo, veniamo in mente, gli ultimi due istogrammi invece, come dire, rappresentano una situazione in cui le imprese ancora si trovano in una situazione di incertezza, forse dovuto anche a una dimensione molto piccola del sistema produttivo veneto che quindi può creare una, non essere magari in questa fase di ostacolo per poter programmare in maniera, voglio dire, importante il futuro della singola realtà produttiva. L'export veneto raggiunge un nuovo record, come vi dicevo post pandemia soprattutto, adesso ovviamente si verificherà un rallentamento a causa del conflitto in Ucraina la variazione, segnalo solo che la variazione dei primi nove mesi in Veneto segnala un più 17,5%, quindi segnali sicuramente incoraggianti e positivi. Per quanto riguarda l'export, qui vengono confermati sostanzialmente perché questi sono dati che rappresentano un po' i fondamentali dell'economia Veneto quindi vengono rappresentati i settori che tradizionalmente esportano di più quindi la meccanica, la moda, la chimica e i metalli. Per quanto riguarda i mercati anche qui si conferma la Germania il primo paese verso cui l'esporta il Veneto e con 10 miliardi di euro previsti, anzi relativi al 2021. Anche per il turismo la situazione è sicuramente positiva ad oggi ovviamente sempre da rivedere in termini di fine 2022 e inizi 2023 un solo dato per quanto riguarda gli arrivi questi sono cresciuti di quasi il 65% fra il 2022 ed il 2021 mentre vediamo che fra il 2022 e il 2019 c'è un meno 13% di presenze derivanti soprattutto da una contrazione degli arrivi da parte degli stranieri però ci stiamo avvicinando alle situazioni di pre-pandemia. Gli ultimi due slide sostanzialmente vedete ci sono noi tradizionalmente le nostre analisi riguardano le cinque settori del turismo quindi mare, città d'arte, lago, montagna e terme anche qui ci sono dei settori che mantengono le loro dinamiche quantitative. Per quanto riguarda il lavoro vedete sono segni sostanzialmente tutti positivi un segno negativo è data dalla diminuzione della cassa integrazione guadagna che è esattamente la controfaccia di un andamento nel mercato del lavoro che comunque dà dei risultati positivi. Veniamo a due focus del rapporto statistico riguardano l'energia e il digitale li trovate negli ultimi due capitoli sono due temi legati molto allo sviluppo sostenibile il sviluppo sostenibile sapete è stato introdotto con l'agenda 2030 dell'ONU ancora nel 2015 sostenibilità significa guardare oltre la generazione presente sviluppo significa uno sviluppo in termini non solo economici ma anche di perequazione sociale. il tema dell'energia ovviamente è all'ordine del giorno è diventato purtroppo un tema all'ordine del giorno era già nell'agenda di programmazione evidentemente ma ha subito un'accelerazione proprio a partire da quest'anno ci sono alcuni già documenti di programmazione significativi che partono dal Green Deal europeo per passare al piano nazionale integrato per l'energia e il clima al piano nazionale di ripresa e resilienza che nella missione 1 destina risorse importanti proprio per interventi destinati all'energia. l'agenda 2030 l'avevo già citata proprio per il suo concetto di sviluppo sostenibile in termini economici, sociali ed ambientali e anche la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile approvata dalla Regione del Veneto a luglio 2020 individerica un settore, proprio un ambito per questo tema. Dicevo che sappiamo tutti che il tema dell'aumento dei prezzi delle fonti rinnovabili è uno dei temi all'ordine del giorno anche oggetto di ripetuti interventi a livello governativo. In questo diagramma vediamo bene come è stata come si ripartisce la crescita dell'inflazione c'è una prima crescita post lockdown per problemi legati agli approvvigionamenti e a delle catene di fornitura che si erano inceppate e soprattutto un incremento ulteriore post inizio conflitto russo-ucraino. Un solo dato, da gennaio la variazione settembre 2022 quindi dell'altro di qualche mese fa, gennaio 2020 ha visto una crescita del prezzo del petrolio dell'oltre il 50% e del gas di quasi l'800 e 50%. Veniamo all'aspetto delle quantità fino adesso ho dato qualche informazione in termini di prezzo. Questa slide illustra come vengono ripartiti i consumi di energia in Veneto che sono pari circa a un 10,4% dei consumi energetici nazionali il valore 10% è grosso modo quello che identifica in Veneto un po' in tutte le sue realtà dal PIL ai consumi ad altre variabili di carattere macroeconomico ecco già una forchetta che può variare tra un 9, 11, 9,5, 10,5 ma se uno dice sì ma il Veneto quanto pesa a livello nazionale quando uno dice 10 sicuramente non sbaglia non si riscosta molto dalla realtà a prescindere dal tipo di dato che utilizziamo e che analizziamo. Detto questo la maggior parte dei consumi di energia sono assorbiti dal settore civile come fonte principale il gas che è quello che ha subito ahimè gli incrementi maggiori nell'ultimo periodo seguono i trasporti, l'industria e poi a seguire l'agricoltura. Un focus sulle energie rinnovabili perché questi sono i consumi di energia in Veneto che ovviamente considerano tutte le tipologie di fonti per quanto riguarda il tema delle fonti rinnovabili possiamo vedere come il Veneto rispetto agli obiettivi che erano stati dati dall'Italia a cascata rispetto a quelli stabiliti dall'Europa vedete che comunque ha già superato la propria quota ha già fatto i suoi compiti come si suol dire per casa è da dire anche che l'Italia avendo un obiettivo al 2020 del 17% ha superato anch'essa questa soglia attestandosi a un 20,4% sono dati sicuramente positivi però vedete come al 2030 ci sono dei valori ancora più sfidanti l'Europa si voglio dire ha l'obiettivo di un 40% in termini di fonti rinnovabili e per l'Italia un 30% quindi sicuramente c'è un percorso ancora da compiere per quanto riguarda le fonti rinnovabili in Veneto nella slide successiva vedete come queste siano composte sostanzialmente per la metà della risorsa idrica una tipica realtà della nostra regione e un 26% per quanto riguarda il fotovoltaico e un 23% per quanto riguarda le biomasse vedete come sostanzialmente c'è un andamento non costante però in crescita negli ultimi anni che sicuramente fa ben sperare sotto questo aspetto l'ultima cosa avendo citato l'agenda 2030 che si occupa molto anche di inclusione sociale non potevamo non richiamare il tema della povertà energetica e cioè delle percentuali di famiglie che non riescono a riscaldare adeguatamente la propria abitazione ecco il dato al 2019 anche qui i dati cambiano quindi aspettiamo degli ultimi aspettiamo degli aggiornamenti vedete che comunque in Veneto c'è una percentuale del 4% di famiglie in povertà energetica comunque una situazione migliore rispetto all'Italia e migliore anche rispetto all'Europa tuttavia questo evidentemente non può esimerci dal tener conto di questa realtà anche perché è qualitativamente molto molto delicata ultimo pezzo della mia illustrazione la transizione digitale anche questo uno dei temi cardine del piano nazionale di ripresa e resilienza nascente anche dal digital compass europeo ripresi anche a livello regionale e che ha l'obiettivo di rendere un paese resiliente, competitivo, inclusivo l'internet ha voglio dire la transizione digitale ha proprio l'obiettivo di includere realtà fra di loro molto molto diverse anche distanti culturalmente, territorialmente e quindi uno sviluppo anche di carattere sostenibile l'Italia come si colloca? ecco l'Italia secondo l'indicatore DESI che è quell'indicatore europeo che fotografa la situazione relativamente al tema della digitalizzazione si trova al dodicesima posizione nella classifica europea non una grandissima posizione ma leggiamolo in positivo in miglioramento in miglioramento per quanto riguarda per esempio il tema della connettività guadagnando ben 16 posizioni rispetto al 2021 un miglioramento rispetto all'integrazione delle tecnologie digitali due posizioni rispetto ai servizi pubblici digitali perdiamo una posizione a livello Italia per quanto riguarda il capitale umano invece siamo un po' indietro al 25esimo posto stazionale ecco questo è un tema sicuramente da attenzionare per quanto riguarda il territorio la connessione del territorio vedete che il Veneto si trova una situazione per quanto riguarda la banda ultralarga leggermente migliore rispetto all'Italia ma possiamo dire in linea con l'Italia per quanto riguarda la copertura ad un giga invece il Veneto performa leggermente peggio rispetto all'Italia l'obiettivo è quello di portare la collettività a un gigabit su tutto il territorio entro il 2026 quindi sono tempi veramente ristretti per quanto riguarda il tema delle competenze cioè degli utilizzatori delle tecnologie digitali vedete che ci sono dei target molto sfidanti al 2025 per esempio i cittadini con competenze digitali di base il target è posto al 70% l'Italia e il Veneto hanno ancora un gap da colmare forse leggermente meglio la situazione per quanto riguarda gli studenti di istruzione superiore e per quanto riguarda i lavoratori in termini di percentuali di specialisti ICT sugli occupati per quanto riguarda il tema il settore delle imprese vediamo che le imprese che utilizzano servizi in cloud che è uno degli indicatori ovviamente è difficile riassumere fenomeni molto complessi con pochi numeri rischiamo di semplificarli troppo d'altra parte se utilizzassimo troppi indicatori rischieremmo una difficoltà a capire in realtà poi se siamo come siamo messi e quali sono i percorsi di miglioramento quindi è sempre un mix un po' come dire che deve essere valutato in maniera in maniera con grande con grande equilibrio proprio per non eccedere in un utilizzo di dati ma neanche individuarne troppo pochi ecco per quanto riguarda le imprese il Veneto performa meglio rispetto all'Italia è in linea per quanto riguarda il tasso di innovazione e di ricerca e per il commercio elettronico leggermente meno rispetto all'Italia vado alla conclusione con l'ultima slide le sfide per la pubblica amministrazione anche qui sono delle sfide importanti target al 2026 70% della popolazione con l'identità digitale in Italia siamo al 50% in Veneto il 45% di cittadini che usa lo speed per quanto riguarda l'e-government l'indicatore è dato dalla popolazione che invia moduli online 64% al 2026 anche qui siamo in una intorno a un 25% in Veneto 23% in Italia che denota sicuramente un percorso da fare sicuramente positiva maggiormente positiva la situazione per quanto riguarda il fascicolo sanitario elettronico il 62% dei cittadini consulta il fascicolo sanitario elettronico in Veneto contro un 47% dell'Italia vedete dati in parte positivi c'è qualche criticità ovviamente pensiamo però di aver dato una rappresentazione oggettiva noi siamo l'ufficio di statistica quindi rispondiamo anche al sistema statistico nazionale e quindi ovviamente abbiamo l'obbligo professionale di utilizzare e di rappresentare questi diatti con la massima professionalità e trasparenza io ringrazio del lavoro mi associo ai ringraziamenti dell'assessore De Verti per i colleghi che hanno lavorato in maniera importante su questo rapporto statistico non sono le uniche informazioni che mettiamo a disposizione del territorio adesso il dottor Alberti direttore della unità organizzativa sistema statistico spiegherà anche quali sono le altre informazioni che periodicamente diamo a disposizione di tutti sperando di fare un servizio un buon servizio ad imprese cittadini agli enti locali al sistema della ricerca al sistema delle rappresentanze economico e sociali vi ringrazio per l'attenzione e do la parola a Francesco Alberti grazie grazie buongiorno a tutti abbiamo descritto fino ad ora e bene ha fatto il collega Pelloso la descrizione sintetica della nuova edizione del rapporto statistico per l'anno 2022 io parto con un piccolo inciso ogni tanto mi chiedo ma qual è il compito di un ufficio di statistica che lavora in una pubblica amministrazione qual è la sua missione la mission secondo me alla fine è sempre quella di promuovere diffondere divulgare la conoscenza della realtà socio-economica di un territorio nel nostro caso ovviamente il vento comparandola se e quando è possibile ma quasi sempre lo è con un contesto nazionale europeo e globale il rapporto di fatto visto in questi termini diventa uno strumento orientato alla più semplice comprensione del presente a beneficio di tutti coloro che sono chiamati a immaginare e interpretare la realtà che ai noi forse mai come in questo ultimo periodo in questi ultimi due o tre anni è in veloce evoluzione prima di farvi vedere il rapporto statistico interattivo che diciamo così è un po' la novità il progetto che è stato portato avanti negli ultimi due anni lasciatemi spendere proprio un minuto per come dire far vedere il nostro sito di statistica all'interno del portale di regione Veneto qui spero si vede sì ok alla voce servizi informazioni pratiche troverete qui il sito di statistica che è un sito veramente pieno di tabelle dati informazioni contenuti tutti ordinati e regolamentati con cura vedete qui gli argomenti che trattiamo dall'agricoltura all'ambiente e l'energia il commercio con l'estero le imprese gli incidenti stradali l'istruzione e chi più ne ha più ne metta il lavoro il pil la popolazione il turismo d'altra parte la struttura produce anche annualmente numerosi prodotti di natura statistica ricordo che noi trattiamo esclusivamente dati ufficiali quindi sono dati resi definitivi da Istat in caso contrario stiamo parlando di stime o previsioni naturalmente i prodotti principali a parte il rapporto statistico che è il nostro diciamo così prodotto numero uno diciamo che viene pubblicato una volta all'anno abbiamo faccio degli esempi il nostro bollettino socio-economico trimestrale esce nei mesi di gennaio di aprile di luglio e di ottobre il bollettino socio-economico del vento sono tutti prodotti scaricabili quindi chiunque da casa può o dall'ufficio può tirarli giù in qualsiasi momento in formato pdf abbiamo inoltre le statistiche flash le statistiche flash sono delle sintesi i pamphlet dei piccoli ve ne faccio vedere una l'ultima che abbiamo fatto uscire nel mese di novembre è quella legata al benessere digitale sono puscoli di quattro pagine in cui si cerca di sintetizzare i contenuti di un determinato tema qui vedete che abbiamo trattato nel corso del 22 parecchie cose l'export le imprese lo sport la denatalità turismo giovani e addirittura anche produzione in agricoltura ed export di vino abbiamo numerosi altri prodotti disponibili all'interno del nostro sito voglio darvi solo due numeri tanto perché vi rendiate conto del fenomeno ho fatto una verifica con i miei tecnici nel periodo da gennaio a novembre il sito internet di statistica di regione Veneto ha avuto parliamo di un sito per addetti ai lavori quindi non è che siamo su ha avuto più di 73.300 visite a conti fatti così significa che per ciascun giorno lavoro attivo si attestano in media a 260 ingressi di visitatori sono stati eseguiti quasi 13.000 download di pubblicazioni quelle che vi ho fatto vedere prima uscita nel corso del 2022 in formato pdf quindi bollettino le statistiche flash il rapporto statistico dell'anno precedente e quant'altro sono state scaricate 10.000 tabelle di tipo statico noi torniamo un paio di prodotti diversi le tabelle statiche così come sono le potete scaricare in formato xls o csv che è open e addirittura 21.500 tabelle elaborazioni dinamiche cioè selezionate dall'utente su parametri diciamo a scelta che possono essere presi in considerazione e questi numeri comparati con gli anni precedenti sono in aumento anno dopo anno questo ci devo dire ci gratificano un poco insomma bene una volta visto un attimino all'architettura del sito di statistica regionale ci concentriamo il collega Pelloso ha descritto il contenuto del rapporto statistico io vorrei soffermarmi un attimino su un altro prodotto che abbiamo portato avanti nel corso di negli ultimi anni dato l'interesse infatti dimostrato per la materia l'anno scorso nel 2021 abbiamo pensato di dar vita a un progetto che noi abbiamo ritenuto innovativo oltre al volume voi avete in mano il volume cartaceo di volumi cartacei ne facciamo stampare ormai pochissimi perché non ha più neanche ragione di essere insomma abbiamo volume digitale che è scaricabile in qualsiasi momento nella sua interezza o addirittura per singoli capitoli dal sito si è pensato comunque di procedere alla costruzione di quello che abbiamo definito il rapporto statistico interattivo è una modalità di presentazione dei dati rivolta agli utenti che viene gestita attraverso animazioni personalizzate di tipo grafico ciò di fatto vorrebbe contribuire a dare una più immediata e coinvolgente esperienza a tutti quanti si addentrano ecco all'interno di numeri che alle volte possono essere di difficile interpretazione sono personalizzazioni grafiche che adesso vi faccio vedere come è costruito questo rapporto statistico interattivo vedete che c'è una parte congiunturale e poi abbiamo una serie di focus tematici per focus tematici intendo dei cruscotti di sintesi che contengono e che trattano una determinata materia allora nel corso del 2021 siamo partiti con la transizione verde e l'istruzione intesa come pilastro dell'inclusione sociale peraltro focus che sono stati puntualmente aggiornati nel corso di quest'anno quindi contengono per chi volesse aprirli i dati proprio freschi quest'anno abbiamo deciso di trattare come si diceva prima i temi della transizione digitale e dell'energia elettrica vado vado via molto veloce perché volendo potremmo passare una settimana qui a vedere tutto quindi cercherò di entrare per sommi capi questa è la parte congiunturale la congiuntura socio-economica abbiamo ripreso e sintetizzato con un breve commento gli elementi che sono contenuti nel rapporto i punti chiave all'interno della congiuntura socio-economica sono così definiti sono il PIL e le componenti del PIL sono i consumi e gli investimenti abbiamo cercato di tenere un particolare punto di attenzione su quelli che noi definiamo i nostri tre drivers principali cioè le imprese l'export il turismo e un punto di interesse anche sulla occupazione in senso lato faccio un esempio ce ne sono tanti di contenuti qui ma vi faccio vedere solo le cose salienti questo qui è l'andamento del PIL nel Veneto e in Italia convenzionalmente abbiamo deciso per rendere omogenee questi grafici di identificare il Veneto sempre e solo col colore azzurro mentre l'Italia sempre e solo col colore verde vedete che qui se io cambio anno cambierà anche il valore dei singoli grafici vabbè prendo il 20 che è stata la catastrofe ma comunque abbiamo anche le previsioni Prometeia per il 23 vi ricordo che parliamo di previsioni quindi non di dati resi ancora definitivi lo stesso si può dire per quanto riguarda la comparazione economica dello scenario internazionale abbiamo preso in considerazione quattro elementi il mondo nella sua complessità gli Stati Uniti la Cina e l'unione monetaria europea vedete qui gli andamenti dal 19 fino in previsione 23 per ciascuno di questi cambia il dato cambiando l'anno poi ovviamente chi vuole approfondire può un po' bizzarrirsi qui all'interno questo è l'andamento del PIL di Veneto azzurro sempre Italia verde confrontato con i paesi dell'area euro nel suo complesso in arancione qui vedete vedete i tooltipi che vi permettono di avere il numero l'anno e la variazione percentuale precisa se io ho bisogno di saperne un po' di più prendo a caso la Finlandia vedete che compare la curva arancione della Finlandia serie storica molto lunga perché andiamo dal 2006 fino alle previsioni 23 e così un po' a seguire il prodotto interno lordo pro capite o in variazione percentuale vedete come cambiano posso qui addirittura prendere in considerazione di selezionare una regione qui ho selezionato l'Emilia Romagna per esempio in questo caso vedete che serie storica anche questa molto lunga ci dà i valori per anno e per variazione percentuale stesso concetto può essere descritto per i consumi delle famiglie io scorro adesso questi sono i principali settori economici Veneto e Italia guardate un po' come cambia servizi industria costruzioni agricoltura e totale i tre driver di cui vi parlavo prima i punti di eccellenza ecco del nostro territorio qui facciamo delle valutazioni semestrali e prendiamo in considerazione i periodi primo e secondo semestre partendo dal 19 qui stiamo guardando adesso il primo semestre 22 vedete un pochino che per esempio le imprese rimangono invariate l'export in aumento micidiale è l'andamento del turismo che dopo il tracollo dei due anni pandemici dell'anno e mezzo pandemico ha ripreso a correre molto velocemente passiamo adesso alle imprese questo è un passaggio per farvi vedere le tipologie di impresa che prendiamo qui naturalmente parliamo di variazioni percentuali vedete come cambiano in funzione del fatto che si scelga una voce piuttosto che un'altra questi sono i trasporti per esempio il manufatturiero l'abbiamo comunque esploso anche per singoli ambiti perché lo consideriamo uno degli elementi di impresa più importanti del territorio i rapporti sono sempre veneto azzurro e Italia verde export sempre anche per tipologia di macro settore alimentare prodotti elettrici chimiche quant'altro veneto e Italia comparati anche con gli anni vedete che se cambiamo l'anno cambiano i posizionamenti turismo allora qui abbiamo preso in considerazione un collega aveva fatto vedere prima insomma i cinque comprensori fondamentali città d'arte lago mare montagna e terme e anche il valore totale gli andamenti turistici sia per arrivi che per presenze gli andamenti turistici sia di turisti italiani e stranieri oppure totali e nei comparti alberghiero ed extra alberghiero oppure totale vedete come cambiano gli histogrammi se io cambio la voce che richiedo di vedere come sempre anche qui una serie storica decennale dall'11 al 21 e vedete qui potete dare un'occhiata all'andamento il numero secco proprio degli arrivi in questo caso nelle città d'arte piuttosto che il numero degli arrivi attenzione che ci sono anche le presenze volendo ovviamente cambiano qui adesso sto guardando il mare allora il mercato del lavoro tassi di occupazione e di disoccupazione nel periodo richiesto quindi dal 2017 in su arriviamo fino al 2021 sempre Veneto Italia confronto andamento dell'occupazione sempre confronto Veneto Italia ma anche singola regione possiamo prendere addirittura la singola regione io seleziono adesso a titolo di esempio le marche vedrete che l'andamento dell'occupazione quindi abbiamo distinto anche tra uomini e donne è un po' questo Veneto azzurro marche in questo caso è arancione e Italia è sempre verde qui la disoccupazione giovanile uno scorcio ecco degli andamenti qui abbiamo una serie storica che se non sbaglio veramente è parecchio lunga perché parte dal 2008 e aggiunge i giorni nostri sostanzialmente gli ultimi dati ovviamente resi disponibili e definitivi ecco questo qui è un pochino il quadro che va a riassumere la parte congiunturale del rapporto statistico interattivo vorrei rubarvi ancora un secondo di attenzione per far vedere a titolo di esempio i nuovi due focus tematici che abbiamo introdotto quest'anno quello legato alla transizione digitale qui sono proprio delle sintesi dei contenuti che sono presenti nel volume diciamo cartaceo in questo caso perché avete in mano quello cartaceo abbiamo intitolato questo in tema di transizione digitale cittadini preparati e consapevoli qui abbiamo preso per esempio ne faccio vedere uno poi ognuno appunto approfondisce dove ritiene più opportuno le persone che usano regolarmente internet vedete che qui c'è il target dell'Unione Europea che ci dice che nel 2025 sarebbe auspicabile un 94% di persone che utilizzano regolarmente internet il confronto qui si fa tra la situazione europea anche qui trend dal 2015 al 21 tra il Veneto e tra l'Italia se voglio selezionare addirittura prendo il Piemonte e vedete che mi compare pure in evidenza l'andamento del Piemonte lo stesso per quanto riguarda le altre abbiamo preso più di una componente penso qua per esempio agli universitari iscritti a discipline STEM lo sapete tutti sono quelle discipline l'acronimo è Science Technology Engineering e Mathematics cioè le discipline scientifiche vedete la differenza che c'è per esempio tra uomini e donne sia in Veneto che in Italia però la condizione sta migliorando se andiamo indietro di dieci anni la situazione era peggiore bene mi soffermo un attimo sul tema energia elettrica stesso cruscotto come concezione qui ovviamente abbiamo dovuto se facciamo confronti fra Veneto e Italia fare un grafico a doppio asse sulla destra troverete i valori verdi dell'Italia sulla sinistra vedete i valori azzurri del Veneto e come mutano gli andamenti qui per esempio questa è la produzione lorda di energia elettrica per fonte idroelettrica se seleziono un'altra fonte vedete che il grafico cambia qui abbiamo riassunto ecco la parte energetica che ci sembrava più significativa mettere in evidenza bene io direi che poi gli approfondimenti li fa chi ritiene insomma ci tenevo ecco a farvi vedere questo progetto che speriamo di aggiornare costantemente negli anni tanto vi ringrazio dell'attenzione grazie al dottor Alberti direi di iniziare la seconda parte di questo incontro la professoressa Bruna Zolin prima in scaletta è fuori un attimo per una battuta con Rai 3 darei la parola al professor Vito Di Noto che è ordinario delle università degli studi di Padova uno dei massimi esperti forse il massimo esperto di energia in campo nazionale ed anche internazionale mi prometto di dirlo lo ringrazio prego professore per il suo intervento grazie buongiorno a tutti e grazie per avermi invitato a spendere due parole su sulle strategie che si stanno adottando oggi in Veneto che è necessario in questo momento di svolta un po' adottare ecco noi sappiamo bene che davanti a noi abbiamo due problemi grossi uno c'era prima della guerra che oggi è in atto in Ucraina che era il problema della decarbonatazione la limitazione del riscaldamento del globo che era uno dei problemi grossissimi per evitare appunto i cambiamenti climatici che poi influiscono in maniera determinante su tante economie e l'altro è l'esigenza oggi di avere energia energia che oggi mette in serie crisi anche tutta l'industria e tutta diciamo così la vita dei cittadini soprattutto in Europa ecco queste due cose sono oggi molto importanti bisogna tener conto che l'energia oggi non è quando pensiamo all'energia non è assolutamente positivo pensare che ci sia una medicina che vada bene per tutti i mali occorre cominciare a pensare che l'energia è come come i soldi l'energia bisogna averne tanta bisogna per averne tante se uno vuol fare tanti soldi può avere tante attività perché se ha solo una di queste attività e questa cede ovviamente si ritrova nelle condizioni non ideali l'energia è lo stesso ci sono diverse fonti quindi quando parliamo oggi in questo punto di svolta quando vogliamo cercare di usare le rinnovabili non esiste una fonte rinnovabile esistono tanti modi di fare attraverso le rinnovabili energia idroelettrico fotovoltaico eolico geotermico e tante altre situazioni occorre ovviamente fare un'analisi molto puntuale sul territorio chi per esempio sta in montagna e ha disponibile legno che si chiama biomassa ovviamente può permettersi di scaldare la propria abitazione con legno ma pensare di usare legno per tutto oggi tutti i gigawatt che usiamo questo sarebbe terribile tanto è che noi sappiamo che la stessa Venezia proibiva di usare il legno per riscaldamento in montagna durante il periodo della Repubblica perché questo avrebbe limitato le risorse e avrebbe fatto sì che le nostre Alpi si trasformassero come qualche isola che conosciamo in cui tutto il legno sarebbe andato perso legno che era allora molto importante per costruire le navi ed altre cose ecco quindi l'energia deve essere pianificata molto bene non si può partire in modo diciamo così pensando in maniera quasi talebana solo a una direzione bisogna tener conto di che cosa abbiamo qui nel territorio non si può dire siccome gli americani fanno così noi dobbiamo fare così noi dobbiamo fare una valutazione molto molto dettagliata di come siamo noi che cosa abbiamo noi qui e sulla base di quello che abbiamo intervenire e vedere come sfruttare al meglio quello che abbiamo in tutte le direzioni a partire dall'idroelettrico a partire dal fotovoltaico a partire dall'eolico eccetera quindi fare un'analisi diretta su che cosa la natura mette a noi a disposizione poi c'è quindi c'è la prima parte quindi ottenere le energie e noi abbiamo una situazione siamo in pianura quindi va valutato una in maniera molto puntuale che cosa succede su un eolico ad alta quota perché nel nostro caso i venti elevati sono ad alta quota non sono a bassa quota perché noi siamo contorniati da montagne e lo vediamo come in alta quota le nuvole si muovono in maniera molto veloce perché appunto vengono concentrate sulla montagna quindi noi abbiamo un'altra situazione questo può essere pensato anche con fotovoltaico offshore cioè fuori il mare è aperto ed è possibile questa è un'altra delle cose importantissime che nella nostra regione può essere fatto perché il mare non è profondo non siamo nel mare del nord dove ci sono 100 metri di profondità qui siamo a massimo a 30 metri di profondità quindi è facile costruire alta quota in mare aperto quindi che non disturba per niente quello che succede fotovoltaico dove è necessario ma anche qui seppur in Europa ci sono delle tendenze che vanno verso il fotovoltaico proprio la presidente von der Leyen ha detto che per il 2025 occorre installare 360 gigawatt di fotovoltaico mentre per il 2030 prevede e stanno cercando di installare circa 300 600 gigawatt anche qui è un grosso problema grosso problema perché dobbiamo pensare che fotovoltaico significa produrre silicio oggi produrre silicio significa produrlo con con il metodo più energivoro che esiste perché lavoriamo ad altissima temperatura lavoriamo a 1800 1900 gradi per farlo dopodiché occorre anche cristallizzarlo che significa rimanere qualche settimana a 1400 1700 centigradi per farlo cioè l'industria più energivora che esiste chi lo fa noi in Europa oggi non produciamo silicio quindi le conseguenze di scelte così ampie possono essere scelte probabilmente che a lungo raggio non hanno un grande non sono non potrebbero non rivelarsi diciamo molto critiche in cui non si dipende poi alla fine da un padrone ma da due padroni il che anticipando tutte le risorse ad oggi che magari potrebbero poi essere utilizzate con calma nel tempo per i prossimi 30-40 anni ecco queste sono alcune delle strategie che devono essere fatte con grande diciamo cura perché poi potrebbero rivelarsi molto critiche ecco l'altro punto quindi una volta che noi valutiamo questo è chiaro che abbiamo l'altra necessità quando parliamo di rinnovabili parliamo di qualcosa che di solito abbiamo quando magari non vogliamo il sole per esempio c'è durante il giorno durante la notte non c'è il vento a volte ce l'abbiamo a volte no quindi occorre fare quello che oggi si chiama seasonal storage cioè un immagazzinamento di energia stagionale cioè a lungo termine purtroppo oggi non disponiamo di dispositivi in grado a lungo termine di caricare questa energia per esempio se usassimo le batterie purtroppo non durano oggi ci sono delle tendenze ci sono in atto delle ricerche per esempio sulle batterie redox a flusso le quali purtroppo non arrivano oltre un mese a mantenere la carica lo vedete anche voi con le batterie a litio i cellulari dopo una settimana se lo caricate ve lo trovate scarico cosa vuol dire che il tempo di ritenzione è molto limitato ecco quindi anche qui diventa importante lo stoccaggio lo stoccaggio e la conversione dell'energia sembra da quello che sono le tendenze generali che il miglior metodo per fare stoccaggio e conversione di energia è quello che si basa su tecniche elettrochimiche c'è la possibilità anche di fare stoccaggio per esempio attraverso l'idroelettrico in cui uno riporta l'acqua di nuovo nel lago artificiale e scarica quando necessario ecco questa è un'altra delle opzioni noi nelle Alpi abbiamo idroelettrico ecco comunque le due opzioni sono la direzione delle batterie la direzione dell'idrogeno quando parliamo dell'idrogeno per la conversione di energia e c'è molta confusione in giro purtroppo parliamo sempre dei migliori metodi che si basano su tecniche elettrochimiche cioè tecniche che hanno a che fare con la corrente l'idrogeno esprime bene le sue la sua quantità di energia nel momento in cui viene convertito elettrochimicamente altrimenti se viene bruciato l'idrogeno diciamo la quantità di energia che è in grado di restituirci è diciamo limitata termodinamicamente non supera i 30-40% se lo usiamo oggi elettrochimicamente abbiamo la possibilità di arrivare al 100% di tutta l'energia quindi oggi nello stato dell'arte almeno il doppio dell'efficienza ce l'abbiamo ecco è un gas quindi ha diciamo tutto quello che un gas immagazzinato può darci nel senso che ci permetterebbe di fare quello che è il diciamo lo stoccaggio stagionale in più l'idrogeno poi è estremamente interessante perché ha un contenuto di energia è chiaro che la conversione attraverso sistemi cosiddetti nella chimica fisica chiusi cioè sistemi dove uno mette del materiale poi fa la conversione come le batterie batterie sono sistemi chiusi le batterie vanno benissimo per tante delle applicazioni che noi abbiamo e anche qui c'è tutto un mondo che si sta evolvendo tutto il mondo che ha a che vedere soprattutto in Veneto anche con tutta la nostra industria la nostra industria che come abbiamo visto nelle statistiche esporta anche molto diciamo materiali elettrici dispositivi elettrici elettronici che vengono prodotti e tutti oggi questi dispositivi lavorano con le batterie per non parlare per i trasporti a corto raggio trasporti a corto raggio significa le automobili no che vengono adoperate diciamo nelle città che non è necessario oggi avere lunghi percorsi per lunghi percorsi si preferiscono le ibride come ben sappiamo ebbene le batterie hanno tutto la loro oggi situazione che è in continua evoluzione continua evoluzione in cui si sta cercando di migliorarle noi abbiamo previsto in ambito internazionale lo sviluppo di cinque generazioni di batterie oggi siamo la seconda generazione queste cinque generazioni mirano a portare la batteria ad avere la stessa performance che avrebbe un chilo di combustibile cioè fare in modo tale che un chilo di combustibile di gasolio abbia la stessa energia che darebbe un chilo di batteria questa è la logica in cui si tende oggi siamo ben sotto con le batterie quindi c'è tutto uno studio e uno sviluppo da fare bene in queste cose chiaramente nello stato dell'arte di oggi occorre consolidare queste tecnologie in modo tale da fare in modo che noi non dipendiamo da altri ma riusciamo a fare tutte queste tecnologie dentro perché oggi è finito quel periodo in cui alcune cose si prendevano da fuori e si faceva l'ultima parte cioè quella in cui si arrivava al prodotto che poi veniva commercializzato oggi serve fare i materiali direttamente in casa e questo è quello che l'Europa sta cercando di fare sta spingendo in modo tale che tutte le tecnologie possano radicarsi dentro quindi nell'ambito delle batterie questo è un po' la direzione e è chiaro che questi dispositivi devono essere usati per quello che diciamo riguarda alcuni tipi di tecnologia l'elettronica portatile va molto bene trasporti pesanti aviazione navi eccetera queste vanno tutte con l'idrogeno perché l'idrogeno sembra essere molto più adatto per questo tipo di situazione uno dice perché l'idrogeno quando parliamo di idrogeno parliamo di elettrico non parliamo di bruciarlo come ho anticipato prima perché la conversione deve essere fatta la conversione che viene fatta in modo elettrico ha una efficienza molto più rilevante ora vi do un po' alcune curiosità del perché l'idrogeno perché oggi si parla molto di queste cose e poi noi a volte l'idrogeno perché ha un contenuto un chilogrammo di idrogeno oggi tanto per un po' per vostra curiosità permetterebbe un'automobile di fare 100 chilometri corrisponde oggi a 3,7 litri oppure a 2,75 chilogrammi di gasolio si può avere un'energia pari a 16 chilovattora ok può servire per una abitazione domestica per avere l'autonomia di uno o due giorni ok può produrre 33 chilovattora che corrispondono a 55,6 chilo ampere ora chilo ampere ora quando andiamo dall'elettrauto prendiamo le batterie da 33 ampere ora dovete immaginare mille di quelle batterie fa un chilo di idrogeno oggi se uno compra un'automobile che sono commerciali ad idrogeno e sono automobili elettriche perché convertono l'idrogeno e l'ossigeno che è nell'aria in corrente facendo acqua l'automobile commerciale che costa 66 chilo euro 66 mila euro e il sindaco di Venezia ne ha compratta una chiedendo anche a Leni di installare venuta sui giornali penso che voi abbiate letto questo bene quella automobile ha due serbatoi da 25 litri che caricano idrogeno a 700 atmosfere in 25 litri a 700 atmosfere c'è un chilo e mezzo di idrogeno due serbatoi sono tre chili anche Padova ha delle automobili a idrogeno questo per farvi capire il contenuto per caricare un'automobile ad idrogeno ci si impiega tre minuti è come caricare il metano ok ecco per quale motivo qual è la situazione che quando noi per area superficiale elettrochimica usiamo idrogeno ossigeno in un membrano elettro tasse che è il cuore della cella combustibile che viene usata lì abbiamo circa un ampere e mezzo quando andiamo sulle batterie abbiamo circa 2 mili ampere e questo è alla base di questo di questa enorme differenza ecco perché in tutto il mondo oggi si parla di idrogeno negli Stati Uniti si paga si parla del big shot però è chiaro una grande opportunità l'idrogeno tutti ne parlano tutti lo vogliono usare in tutti i modi come sempre capita nei materiali chimici uno non può far fare all'idrogeno il metano bisogna che l'idrogeno venga messo nelle condizioni di esprimersi bene e meglio in termini di sicurezza in termini di efficienza cosa vuol dire questo che oggi bruciare idrogeno come si vuol fare nelle abitazioni e in altre cose questo può essere un problema trasportare idrogeno attraverso un piping in giro è un grosso problema quindi deve essere ripensato non si può far fare all'idrogeno come dicevo prima il metano perché è estremamente pericoloso ok e questo è fondamentale lui ha una sua configurazione ha un suo comportamento e deve essere usato come lui richiede di essere utilizzato cosa vuol dire questo in una regione che cerca di convertirsi in questo punto diciamo in questo momento di volta energetica se noi cogliamo bene queste cose ovviamente potremmo usare meglio queste tecnologie e soprattutto fare in modo tale che queste non non si incorra in qualche in qualche problema che poi limita questa grande opportunità che abbiamo sotto mano l'idrogeno importante oggi richiede una regolamentazione nell'uso richiede un'attenzione particolare soprattutto sulla sicurezza quando viene usata se si vuole usare appunto per uso domestico per lo stazionario e questo cosa vuol dire che a lungo che a corto raggio dobbiamo pensare in un modo un modo che sia diciamo l'introduzione al lungo raggio introduzione in termini diciamo così di un percorso che si intende fare poi a lungo raggio che sia il percorso corretto di utilizzo di questa tecnologia non possiamo pensare di voler fare quello che facevamo usandolo così come ok perché questo per dire bruciare l'idrogeno in un automobile significherebbe che lo si sfrutta oggi per il 30% della sua quantità di energia il resto viene buttato via tutto come calore se noi lo usiamo in una cella combustibile arriviamo 75% cioè due volte tanto oggi con lo stato dell'arte stato dell'arte che è in evoluzione enorme noi tanto per darvi qualche numero facevamo un kilowatt di potenza con un grammo di platino sulle cella combustibile dieci anni fa oggi con un grammo di platino facciamo 8 kilowatt di potenza in alcuni materiali di nuova generazione facciamo anche 14 kilowatt e questo fa una grande differenza ecco questo è uno alcune delle cose per farvi capire che si apre un mondo importante un mondo importante che coinvolge tutte le aziende venete sia per quanto riguarda le batterie per quello che questo comporta in tutto lo sviluppo tecnologico sia per quello che riguarda tutte le tecnologie dell'idrogeno che deve essere fatto e pianificato in maniera estremamente corretta ecco io non so se sono andato oltre i tempi potremmo parlare molto di più ma non vorrei togliere il tempo agli altri ecco poi se avete domande vi prego di farmele grazie professore perché è riuscito in maniera semplice come le persone voglio dire che governano pienamente una materia a spiegare a noi che siamo voglio dire del tutto di giuni i punti fondamentali sul tema dell'energia dopo io ho una domanda ma gliela faccio dopo secondo me un po' tutti hanno la stessa domanda mia ma gliela faccio dopo ringraziando ancora darei la parola alla professorezza Bruna Zolin che ringrazio essendo il suo intervento comunque incentrato se non ho capito male sul tema vicino sul tema delle materie prime ecco quindi stiamo un po' in questo ambito e dopo passiamo al digitale grazie grazie se è possibile sì vabbè allora ricominciamo da capo scusate buongiorno come vedete mi chiamo Maria Bruna Zolin faccio parte del dipartimento di economia di Ca' Foscari io sono molto onorata di essere qua cioè veramente in questo momento mi sento molto fortunata io mi sono laureata in questa in questa Caddolfine e è là un po' la mia casa e poi ho anche lavorato abbastanza per la regione Veneto in veste di esperto di componente di gruppi di valutazione e quindi mi sento veramente a mio agio mi sento a mio agio poi con i numeri i numeri è giusto no? cioè io mi ricordo quando si era scelto quella il titolo il Veneto si racconta il Veneto si confronta è una cosa veramente geniale perché è vero cioè i numeri raccontano i numeri ci dicono come vanno le cose i numeri vanno letti i numeri vanno interpretati e dei numeri bisogna averne cura perché ci dicono tanto il rapporto quindi il rapporto statistico la veste è molto accattivante i numeri che sono così importanti non possiamo farne a meno però di solito ci allontanano anche non così il rapporto statistico il rapporto statistico complimenti perché ha una veste molto gradevole è immediato di un fenomeno ti fa vedere con dei grafici molto molto precisi molto anche leggeri ma non la leggerezza naturalmente non va interpretata nel senso no cioè un qualcosa insomma per cui non ci si sente allontanati semmai ci si sente richiamati quindi chiudo questa parte iniziale dicendo che vi ringrazio la regione veneto e in particolare il dottor Appelloso per avermi invitata qui la cosa sulla quale io pensavo di poter dire qualcosa è il nodo delle materie prime io insegno da anni come ho detto i Marchez e fa anche parte della mia linea di ricerca allora credo che questa situazione delle materie prime sia un nodo allo sviluppo un nodo che deve essere preso in seria considerazione deve essere preso in seria considerazione le stiamo un po' rincorrendo no prima il covid ci aveva già fatto vedere che cosa stava succedendo poi è arrivata la guerra con l'Ucraina però a mio avviso altre guerre ci sono all'orizzonte prendiamo ad esempio la guerra ci torneremo tra un attimo con una specie di mappa ad esempio la guerra commerciale Stati Uniti Cina la Cina che piaccia o no produce gran parte delle materie prime oppure è il maggiore esportatore il maggiore importatore il maggiore consumatore eccetera quindi la Cina influenza tutto il campo delle commodity quindi accanto a aspetti di tipo covid cioè quelle cose che la guerra che sono delle grandi emergenze poi ci sono anche delle situazioni geopolitiche che vanno tenute in considerazione allora il rapporto è è aggiornato io vi ho portato ho portato non ho preso i grafici che ci sono nell'annuario ma ho fatto un qualcosa di così un po' diverso no? cioè cosa veniva vi portavo quello che era già stato presentato e ho portato il primo che è relativo al food price index la fonte è la OECD settembre guardate no? cioè qui c'è un aspetto importantissimo importantissimo perché perché rileva il discorso della sicurezza alimentare cioè se guardate come è cresciuto no? nel 22 quindi il discorso della povertà il discorso delle persone che non hanno abbastanza abbastanza reddito per potere quindi questo è un aspetto naturalmente che deriva poi no? questo questo innalzamento del prezzo degli alimenti no? che deriva da una serie di questioni legate alla materia prima e quando i fertilizzanti schizzano dei prezzi elevatissimi questo è il risultato poi io vorrei anche rilevare che non è che tutto sia giustificato cioè nel senso che ci sono alcune parti della catena della supply chain che in realtà ne hanno approfittato molto nel senso che c'era in aria c'era nell'aria il discorso di un possibile aumento track immediatamente ancora prima in realtà che il costo fosse stato sopportato quindi una sorta di cassa di risonanza ok però va sul food guardate cosa arriviamo ad avere passerei al secondo al secondo l'altro invece sempre stessa fonte OECD settembre 22 è il discorso dell'energia no guardate questo è il trend ora qui aggiungerei anche un altro elemento che è un aspetto molto che incide molto che è quello della volatilità la volatilità è la variazione da un anno all'altro del prezzo e questo e questo porta poi di fatto a delle a delle conseguenze nell'economia perché non si sa mai no cioè si è sempre non è un prezzo che è stabile magari cresce ma che ha queste guardate questi picchi ed è se volete un po' risponde a quello al food price index che abbiamo visto prima ecco questa è la situazione no poi ovviamente ci sono ovviamente ci sono altri altre commodity però ci fermiamo a questo allora passerei guardiamo il quadro d'insieme delle materie prime allora il primo è che l'unione europea è a scalare no e a scendere giù l'Italia e il Veneto dipendono dalle materie prime la dipendenza stimata è che è pari al 75 100% per alcune materie prime vuol dire che se non ci sono quelle materie se decidono di non venderci più le materie prime non possiamo produrre questa questo aspetto un po' ce lo sapevamo anche prima perché lo si sapeva anche prima lo si sapeva anche prima che si era dipendenti da altre aree geografiche per le materie prime ma in qualche modo insomma si diceva che problema c'è si compra no era un po' tutto a un prezzo non molto elevato e poi è arrivato il covid e poi è arrivata la guerra in Ucraina e questa situazione che è esistente da sempre è diventata veramente critica e a questo si è unito qualcosa che prima veniva dato per per assodato che era quella un tranquillo accesso alle materie prime no che problemi c'erano c'erano mai il gas ci arrivava costava niente abbiamo scoperto dopo che lo pagavamo niente il discorso delle terre rare le vedremo tra un attimo quelle per i quali ci facciamo tutto no siamo eh lì produce il 90% la Cina beh si e si andava avanti no si comprava invece poi arrivano queste robe qui che mettono all'interno di questo e su questo un aspetto che forse è il caso di fermarsi un momento c'è la definizione delle materie prime critiche quali sono le materie prime critiche le materie prime critiche sono quelle che per volume di di commercio e per l'aspetto del rischio di approvvigionamento sono quelle e naturalmente scusate è necessaria per lo sviluppo dei settori strategici energie rinnovabili e digitalizzazione entrano va bene hanno queste caratteristiche qua quindi vuol dire che in altri termini materie prime critiche vuol dire che se non ce l'abbiamo non riusciamo a fare la transizione energetica non riusciamo a fare la transizione digitale allora sì sono andata un po' a spulciare su queste materie prime critiche e ho scoperto che esiste un elenco dell'Unione Europea questo elenco dell'Unione Europea viene rinnovato ogni tre anni guardate lì ho messo il link nel quale lo si può e poi abbiamo anche a livello nazionale le materie critiche ci torniamo tra un attimo quindi abbiamo due elenchi abbiamo un elenco basato sul rischio e basato sul discorso di vista sotto il profilo del fatturato complessivo e queste due liste quindi se là l'Unione Europea fa decida di fare un elenco delle materie critiche prime critiche a me fa pensare che si sta prendendo nozione che è problema e che forse ci saranno anche delle strategie su quelle questo vale per l'Europa e vale anche per l'Italia passerei alla prossima che io trovo eccola qua guardate questi sono i paesi produttori materie prime critiche è una mappa della Commissione Europea e io ve la lascio guardare perché ve la lascio guardare vi vorrei solo chiedere di analizzare guardate la Cina capito cioè bismunto magnesio 93% cioè vuol dire capito che produce il magnesio è prodotto per il 93% in Cina cioè se la Cina dice non vivendo più il magnesio non possiamo neanche dire che andiamo nell'altro 7% e quindi questa vedete le terre rare guardate del resto io veramente un po' siccome questa qui potrebbe anche dare altre interpretazioni cioè perché le terre rare vengono prodotte tutte in Cina la domanda perché non le produciamo noi perché le terre rare contrariamente a quello che dice il termine non sono affatto rare sono nel suolo il problema è che il costo ambientale per l'ottenimento dei componenti è elevatissimo venivano prodotte fino a una ventina d'anni fa dagli Stati Uniti e dalla Cina gli Stati Uniti le ha chiuse perché era tutta un'area con livelli di inquinamento elevatissime e sono rimaste in Cina ora non è che si può pensare scusate ma non è che possiamo pensare che la Cina si prende tutto il discorso della 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 pollution dell'inquinamento e ci dà la materia due lire no? cioè voglio dire un attimino cioè siamo un po' ragionevoli su sta roba e quindi è chiaro è un monopolista ma gliel'abbiamo regalato al monopolio cioè se non si vuole lo si produce si mette in piedi quindi guardate guardate come i paesi produttori di materie prime critiche siano in numero molto ridotto quindi c'è una grande contrattazione spesso questi paesi hanno un ruolo dei monopolisti e spesso rappresentano anche situazioni dei paesi con i quali propriamente non è che andiamo a braccetto no? e ci andiamo a prendere il caffè quindi ci sono anche delle situazioni ed è anche una sorta di grande ricatto ok andrei avanti ecco allora qui vi ho riportato le materie prime strategiche per l'Italia cioè quelle che sono le critiche per volume di importazione è questo centro di ricerca interuniversitario in economia del territorio della Bicocca Università di Milano che fa questo studio guardate questo è l'elenco secondo il questo centro di ricerca veramente importante sicuramente a livello della ricerca scientifica molto apprezzato ecco e queste sono le materie e che cosa si scopre si scopre che queste materie prime strategiche calcolate da questo centro di ricerca non sono le materie prime critiche nell'elenco dell'Unione Europea quindi per esempio i metalli preziosi non sono cioè come l'argento poi c'è anche l'oro un po' più sotto comunque io vi ho portato naturalmente una sintesi per una cioè io non è che ne so di questi di questi metalli capito guardo l'elenco e ci ragiono un attimo quindi il cioè ritorno al discorso di prima se se le materie prime c'è questa parte dell'Unione Europea beh va fatta un attimo di riflessione no? cioè su quello che per l'Italia lo è vedrete un attimo per il Veneto poi andiamo avanti quindi questa è una sorta di elenco andrei alla prossima diapositiva eccolo qua è sempre questo rapporto di questo centro ricerca guardate dice che tra ottobre vi faccio rilevare come siamo ottobre quindi è giugno 2021 non c'è ancora la guerra capito in Ucraina infatti il discorso delle materie prime comincia con la cosiddetta ripresa economica no? usciamo dal covid tutti a investire eccetera quindi guardate il ferro e il rame in quell'anno lì prima dell'esplosione della della guerra hanno aumenti del 43 del 79 sotto guardate le siderulgiche 104 legname 87 cellulosa 39 cotone 33 e io qua finché leggevo questo rapporto io me lo immaginavo il Veneto io me lo immaginavo con con quelli che sono i settori manifatturiero quello che è l'aspetto dei metalli utilizzati di cui siamo tra l'altro una sorta di diamante e quindi il metallo meccanico nella parte nella terra di origine verso parte di Vicenza automobilistico magari no l'elettronico il chimico l'edile il tessile del mobile e quindi sì è entrato in pieno no in questo e quindi mi avvierei con l'ultima diapositiva che sono in modo molto sintetico alcune considerazioni in sintesi uno la prima è quella che dicevo prima sullo scacchiere geopolitico già di questi paesi adesso ci mancava solo il mondiale del Qatar per cui anche lì un'altra bella fuoco acceso per cui si offendono non ci danno più il petrolio insomma questo scacchiere geopolitico veramente inquietante il secondo punto è quello che rilevavo prima cioè sul fatto che c'è questa discrepanza tra le due elenche delle materie prime per cui se l'Unione Europea ripeto intende in quell'elenco pensare di di trovare delle strategie per supportare questa produzione di materie prime insomma bisognerebbe anche fare un pochino di lavoro appunto un po' di lobby visto che va di moda con l'Unione d'Italia e l'Unione Europea insieme su queste materie critiche qual è la soluzione la soluzione una possibile soluzione una possibile soluzione è l'economia circolare l'economia circolare voi sapete che non è che si poi alla fine del processo si buttano è finito ma è la materia prima che rientra che viene riutilizzata riciclata non è che ce ne siano tanti quindi il discorso dell'economia circolare è un qualcosa che sicuramente deve essere preso in esame e che richiederà delle strategie l'economia circolare però naturalmente è costosa cioè non è che tutte queste transizioni non sono gratis sono costose e quindi come promuoverla costosa come promuoverla su quali basi cioè come selezionare entrando in un campo che è quello della ricerca della mia con una collega del dipartimento lei è una matematica così sono sicura dei calcoli stiamo cercando di misurare e l'abbiamo fatta per le regioni italiane quella che è la potenzialità di applicazione di un'economia circolare a livello regionale e nello stesso tempo qual è il livello di applicazione il risultato che ci ha dato questo questo modello non sono come si dice incoraggianti ma sicuramente vanno un po' raffinati però anche quello capito cioè dire ok qui c'è produciamo tantissime batterie e quindi è quello l'aspetto no cioè ci sono già va fatto un'analisi di questo tipo e infine chiuderei con il nodo della formazione e chiuderei con l'altro nodo che è quello dell'invecchiamento della popolazione che un po' rappresentano anche questo delle ombre nel senso che l'innovazione è giovane i giovani innovano e poi e quindi noi abbiamo di fatto ce lo facevo vedere prima anche il dottor Pelloso cioè una popolazione che decresce e che invecchia e l'altra cosa relativa alla formazione cioè l'economia circolare richiede delle nuove figure professionali penso al campo dell'ingegneria in particolare no a della chimica e boh siamo pronti a me pare di no ok io vi ringrazio speriamo che le cose invece siano molto più belle di come ve le ho descritte io grazie davvero grazie alla professoressa Zolin ora la parola alla professoressa Eleonora di Maria dell'università degli studi di Padova ordinario del dipartimento di scienze economiche ed aziendali prego buongiorno buongiorno a tutti tutte ringrazio regione del Veneto per dottor Peloso per avermi invitato a commentare a ragionare su questo rapporto statistico devo dire mi associo ai complimenti perché non soltanto è ricco ma è come dire molto dettagliato rispetto ai diversi processi in particolare insomma il mio sguardo va soprattutto all'ambito della trasformazione digitale ma diciamo nella sua completezza devo dire che dà uno sguardo e riporta a un quadro appunto di un territorio in transizione però dalle buone basi dalle buone premesse mi verrebbe da dire guarderei pur nella situazione un po' anche di crisi il bicchiere mezzo pieno i dati che sono stati evidenziati anche prima in qualche modo lo dimostrano devo dire che andando a guardare il processo di trasformazione digitale il covid ha avuto nella sua negatività comunque un ruolo molto importante come strumento di forte accelerazione se non altro nell'attenzione e nella consapevolezza delle potenzialità che le tecnologie digitali possono dare mi ha stupito anche il dato che riportava il dottor Peloso all'inizio rispetto al fatto che almeno metà delle aziende ancora non ha una chiara strategia rispetto al futuro e su questo credo che dovremmo lavorare un po' tutti da più punti di vista però in generale diciamo così durante il covid c'è stata la presa di consapevolezza da un punto di vista dei cittadini ma anche dei consumatori della possibilità di utilizzare le tecnologie per accedere ai servizi per poter comprare i prodotti abbiamo visto anche i dati sull'e-commerce ha la possibilità in qualche modo di riuscire a superare quelli che sono i vincoli della mobilità fisica per avere un accesso che il web ci può dare a una serie di contenuti sempre più ricchi allo stesso tempo però dall'altra parte sia il mondo della pubblica amministrazione ma anche il mondo delle imprese ha cercato di modificare nel corso di questi mesi i suoi investimenti verso il digitale ci sono però alcuni elementi mi vorrei dire appunto positivi altri sui quali penso che possa essere interessante ragionare in funzione di crescita il mio intervento che ruoterà attorno a tre lucidi vuole in qualche modo fornire una serie di elementi per mettere un po' a sistema alcuni numeri che sono presenti all'interno del rapporto per cercare di dare alcuni scenari anche soprattutto prospettici rispetto alla transizione del digitale all'interno però di quello che lo si diceva anche all'inizio la necessità di far crescere il territorio il Veneto la regione in una dimensione di sostenibilità più ampia in cui la sostenibilità diventa l'obiettivo il digitale diventa un po' il mezzo per raggiungerlo il primo punto da cui partirei è che in parte è presente in molti numeri in molte tabelle all'interno del rapporto sulla transizione digitale riguarda la crescente domanda che c'è di contenuti è un grafico che non vi riporto ma diciamo perché avrebbe molti zeri la quantità di contenuti digitali di pagine web che sono presenti a livello non soltanto regionale ma a livello mondiale è enorme si parla ormai di diverse milioni di gigabit l'idea che sempre più i contenuti digitali e del vario titolo sono sempre più parte diciamo dell'attività nostra quotidiana oggi pensarci cittadini e lavoratori e lavoratrici senza la dimensione digitale è in qualche modo diciamo così poco praticabile anche se abbiamo visto anche all'interno del rapporto c'è una quota di cittadini che ancora non ha accesso non utilizza internet in maniera costante se andiamo a guardare questa dimensione i contenuti però significa anche immaginare una domanda diciamo di servizi che deve in qualche modo rispondere a questa esigenza di contenuti io vi ho riportato in realtà alcune immagini che riguardano alcuni elementi più nel concreto della trasformazione digitale un mondo che riguarda forse un po' vengo dagli studi insomma di gestione di imprese riguarda il mondo delle imprese è un processo che ancora prima del covid è partito all'interno di quella che si chiama appunto la quarta rivoluzione industriale che è stata declinata con la parola industria 4.0 un mondo che va dalla robotica alle stampe 3D a tutti i sistemi diciamo di interconnessione della produzione alla possibilità che i nostri prodotti diventino in qualche modo intelligenti esistono una serie di tecnologie che oggi danno la possibilità alle imprese di ripensare in maniera innovativa i propri processi i propri prodotti soprattutto alla possibilità lo si diceva anche prima per esempio di raccogliere dati per decidere per pianificare per sapere esattamente cosa produrre a chi vendere dove con quale tempestività questa tecnologia questa trasformazione si vede anche nei numeri del rapporto è ancora presente in parte e la scelta tecnologica che molte aziende hanno fatto è quello di puntare per esempio sul cloud e le tecnologie cloud in qualche modo ci consentono di pensare ai nostri numeri ai nostri dati sui prodotti sulla produzione sui consumi nella nuvola lo vedremo poi con l'ultima slide in realtà non sono così eterei stanno all'interno di infrastrutture tecnologiche però danno una potenzialità enorme che ha anche a che fare con l'impatto geografico cioè la possibilità dell'ubiquità un personale diciamo un agente può accedere alle informazioni sui clienti sui prodotti in qualsiasi momento ma in realtà anche un consumatore può accedere abbiamo visto anche i dati per esempio sulla sanità in qualsiasi luogo i propri dati perché sono condivisi sono all'interno diciamo così di uno spazio di rete accessibile questa trasformazione in qualche modo cambia anche la domanda dal punto di vista delle imprese questo processo di trasformazione iniziato abbiamo visto anche alcuni risultati positivi da un punto di vista dell'adozione però è un processo che va in qualche modo ulteriormente accompagnato si vedeva anche dai numeri mostrati in precedenza come la scelta di ulteriormente spingere sulla transizione digitale era al quarto posto dopo la qualità del lavoro dopo l'investimento su fronte per esempio dello smart working potrebbe essere visto in positivo cioè le aziende l'hanno già fatto e quindi non è prioritario o potrebbe essere il lato negativo cioè non hanno ancora ben visto il potenzialità e quindi su questo si può intervenire però altrettanto importante è pensare qui ci sono tutti i dati che riguardano che sono presenti anche del rapporto all'interno del rapporto che riguardano per esempio il 5G che oggi sta cambiando proprio la configurazione anche dei nostri territori la vicepresidente parlava prima di mobilità oggi una sfida che il digitale deve affrontare è quello di riuscire a trasformare per esempio e accompagnare le nostre città i nostri territori in chiave intelligente che però è anche inclusiva quindi il mondo delle smart city in cui i cittadini i consumatori le imprese chi lavora che si può muovere può avere accesso ai dati può avere la possibilità di avere una mobilità intelligente la possibilità di avere degli edifici che in qualche modo parlano possono misurare per esempio quelli che sono i consumi energetici ci sono mille diciamo opportunità che il digitale può diciamo consentire come abilitazione e questa rappresenta ormai la frontiera su cui sempre più credo che anche la regione con il suo percorso di accompagnamento lo si vede anche dai dati sta in qualche modo dando un supporto c'è però la necessità di considerare sempre più la dimensione della connettività come è fortemente pervasiva cambia anche e qui nell'ambito per esempio del 5G forse quel triangolo si vede poco ma esistono c'è l'idea che i prodotti in qualche modo gli oggetti quindi dal più piccolo anche appunto dicevo un edificio anche una città diventino sempre più in grado di raccogliere e di dare dati questo è un elemento importante soprattutto in un'economia in cui i dati dovrebbero essere pensiamo anche al mondo della pubblica amministrazione dati aperti e su cui innanzitutto come dice un po' il sottotitolo del rapporto io racconto cioè raccolgo i dati e poi attraverso i dati confronto prendo delle decisioni questo a livello ovviamente di pubblica amministrazione ma anche a livello di impresa ma anche a livello di singolo in qualche modo cittadino sempre più anche abbiamo che ne so nel mondo della moda si parlava prima di economia circolare i maglioni che ci diranno quante volte li abbiamo usati quanto è stato l'impatto dell'uso dell'acqua e quindi sappiamo quante volte magari lavarli o meno questo è un esempio forse spicciolo del modo in cui in realtà la trasformazione digitale può avere un impatto molto forte in questo quadro quindi c'è una domanda crescente di contenuti che però deve altrettanto trovare di fronte una struttura di imprese che si rinnova prima di passare all'altra side io mi fermerei qui per recuperare il nodo delle competenze di cui si parlava e che è presente in maniera molto chiara all'interno del rapporto qui evidenzierei due elementi da un lato è chiaro che c'è una necessità di investire nello stock cioè aumentare il numero dei laureati dei diplomati delle competenze in ambito STEM e quindi nell'informatica nella cyber security nella gestione diciamo così delle tecnologie nello sviluppo del software però altrettanto vero soprattutto in un contesto come quello della nostra regione che è un contesto manifatturiero molto importante bisogna pensare di immaginare questo sviluppo delle competenze anche in maniera ibrida cioè i lavori ibridi quindi l'idea che anche chi si occupa di marketing di vendite di export conosca e sappia usare le tecnologie perché questo diventa un modo appunto per usare anche in maniera intelligente i dati e qui credo che l'aspetto interessante possa essere anche appunto coinvolgendoci anche noi come università nella possibilità di aumentare la collaborazione i progetti le occasioni attraverso cui le imprese per esempio lavorano con gli studenti per realizzare dei progetti legati alla trasformazione digitale così come si cita all'interno del rapporto per esempio la forte prevalenza anche nel Veneto di un terziario innovativo quelli che vanno chiamati i Kips che hanno a loro volta diciamo una deficit di reclutamento proprio perché i lavoratori con competenze non sono così abbondanti come vorremmo ma diventano anche un'ossatura importante per accompagnare poi le imprese quindi questa collaborazione tra mondo dell'università del terziario innovativo e della manifattura credo che siano importanti in realtà sono interessanti però anche per gli altri ambiti che io non metterei in secondo piano che sono quelli dell'agricoltura che in parte era citata c'è un'enorme innovazione anche nell'agricoltura di precisione quello che si chiama lo smart farming che è citato tra l'altro nel rapporto così come quello legato per esempio al turismo la cultura la possibilità di rendere accessibili i dati se passiamo grazie alla seconda slide questa invece è un po' più tecnica ma come dire la spiego meglio a fronte di una crescente domanda di contenuti non soltanto aumentano ma le statistiche dicono che diciamo tra il 70 e l'80% i contenuti che vengono scambiati sono contenuti multimediali quindi prevalentemente video di qualsiasi tipo poi c'è il web i dati poi c'è diciamo lo scambio insomma di altri di altri tipi di dati c'è l'esigenza di connettività cioè la capacità di riuscire in qualche modo a trasportare i dati e rendere questi dati accessibili c'è una al di là dello scenario quindi come secondo elemento di trasformazione le infrastrutture che portano in qualche modo che sono a supporto del cloud stanno cambiando si parla oggi di quello che è l'edge computing cioè l'idea che sempre più i dati siano vicini al luogo in cui non solo sono prodotti ma sono utilizzati i numeri che qui riportano uno studio a livello internazionale dicono ma perché dobbiamo avere in qualche modo una trasformazione dell'infrastruttura tecnologica sempre più vicini perché appunto da un lato c'è la necessità di avere di una nostra vita di una nostra attività di lavoro di consumo che è sempre più data intensive cioè noi abbiamo avremo sempre più bisogno o potremmo sfruttare i dati quindi tanto più questi sono vicini tanto più ci danno la possibilità di lavorare meglio e questo però richiede un'infrastruttura tecnologica ovviamente qui non c'è il tempo per approfondirla però su cui si sta muovendo anche la regione c'è poi un altro tema che è quello human latency cioè la capacità di noi tutti come persone di aspettare oggi siamo sempre più richiedenti in qualche modo dei dati che sono subito disponibili pronti non possiamo quando aspettiamo più di 5 secondi un video perché si carichi andiamo magari un po' no? il nervosismo aumenta cioè la necessità di riuscire in qualche modo a tener conto anche del fatto che i cittadini i consumatori i lavoratori hanno bisogno di qualche modo di un'immediatezza per lavorare ma anche per fruire meglio di qualche modo dei contenuti e c'è una parte invece più infrastrutturale il fatto che appunto essere più vicini aiuta magari anche come si dice machine to machine ma come dire possiamo lasciare i robot aspettare in qualche modo con una battuta l'ultimo punto e vado in chiusura invece grazie all'ultima slide riguarda un tema che secondo me come dire fa un po' da sintesi ai due diciamo interventi ai tre interventi di oggi perché è un tema che tra l'altro come Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali insieme alla Direzione AST della Regione Veneto abbiamo in qualche modo iniziato ad affrontare che riguarda la sostenibilità digitale ambientale delle infrastrutture digitali quando dicevo prima che il cloud ci porta a immaginare i nostri dati sulla nuvola in realtà i dati sono all'interno di infrastrutture che pesano molto si citava anche prima quindi delle infrastrutture di hardware dei data center questo grafico che vi porto mette in evidenza come oggi noi abbiamo tantissimi dati produciamo molti dati questi dati cresceranno però hanno un impatto fisico cioè sempre più le infrastrutture legate al mondo del digitale inizierà a consumare inizierà a emettere CO2 emette in realtà anche già CO2 con un peso sempre crescente e questo pone una serie di criticità anche di interventi di scelte che riguardano un lato come utilizziamo le risorse se ne parlava prima a proposito appunto delle materie rare più in generale della diciamo così delle infrastrutture tecnologiche ma dall'altro anche della necessità di bilanciare quello che può essere uno sviluppo del digitale e tener conto del fatto che in realtà c'è un'implicazione molto forte oggi si parla di transizione gemella transizione ecologica transizione digitale ma le due in qualche modo devono essere viste in maniera complementare credo che questa sia una delle sfide che ci attende tutti come sistema grazie per l'attenzione grazie alla professoressa Di Maria ci avviciniamo alla conclusione di questa di questa intensa mattinata qualche minuto per qualche domanda se qualcuno vuole intervenire visto che abbiamo a disposizione tre professori universitari esperti in materia ne provo a fare uno a fare io una per il professor Di Notto una battuta sulla fusione nucleare la fusione nucleare è una possibilità bisogna vedere adesso entro quanto tempo abbiamo questa possibilità francamente io sarei anche molto curioso di capire quanto è veramente il guadagno di energia perché la mia sensazione è che 20% rispetto all'energia che io do se sto usando dei laser che costano moltissimo e che hanno tempi di vita molto brevi come i laser militari di quella portata che consumano un sacco di energia è stato messo in conto quell'energia in entrata o no perché questo non l'ho capito perché è chiaro che se io ho una lampadina e dico illumino perché ha 40 watt e poi me ne escono 45 è un conto ma se poi per fare quella lampadina spendo tre volte tanto è chiaro che a quel punto poi la cosa bisogna rivalutarla in maniera diversa ecco io diciamo voglio sempre mettere il dito nella piaga per cui aspetterei per vedere gli entusiasmi qualcuno grazie qualcuno vuole intervenire no bene allora mi riallaccio all'ultima espressione del professor di noto sono curioso di capire ecco speriamo che il rapporto statistico e le altre informazioni che mettiamo a disposizione di tutti possano anche stimolare la curiosità nel cercare di capire nel cercare di soprattutto immaginare il nostro il nostro futuro e ringrazio tutti la vostra i presenti e qui è collegato nel canale youtube e ringrazio i colleghi di banca d'italia che hanno partecipato alla stesura del rapporto statistico con una collaborazione ormai consolidata da molti molti anni permettetemi di farvi gli auguri di buone feste a tutti voi e tutti i vostri cari grazie al prossimo appuntamento grazie 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 grazie